benvenuti a new point of view by linea pelle fair la nostra edizione tutta rinnovata e oggi abbiamo con ceria la veneta della persona di chiara ciao chiara ciao rietta ciao ciao sono molto contenta di averti soprattutto per dare un'anticipazione della collezione che presentate questa stagione hai qualcosa da svelarci certo sono qui per questo rietta io ti ringrazio per questa opportunità e parto con una breve introduzione sulle considerazioni che abbiamo fatto noi quest'anno per lavorare e abbiamo deciso di concentrarci sull'eredità che ci ha lasciato il covid parliamo direttamente dell'elefante che sta sulla stanza che è presente ora e ci accompagnerà per tutto per il futuro si pensa sono siamo di fronte secondo noi a una definizione dei nostri bisogni non soltanto in italia ma in tutto il mondo ci ha costretto a diventare più interconnessi a fare più attenzione a ridefinire tutte le nostre attività quindi secondo noi il consumatore del del futuro che anche adesso in realtà sarà sempre dovrà fare sempre più attenzione a come compra dove compra e sarà sempre più informato e io vi ho preparato un piccolo excursus nel nostro mondo della calzatura pellette riabbigliamento che mi ha presto e mi ha presto a farmi entrare perfetto sono siamo molto curiosi e io anche sono molto curiosa di vedere per cui in questo momento tu adesso ci vai vicino alle pelle ci racconti le pelli per cui ai nostri visitatori ricordo che stiamo vedendo una selezione della collezione della collezione di conceria la veneta questi sono questi sono solo alcuni dei nostri articoli rappresentativi ho deciso di prepararvi il mondo della calzatura della pelletteria e anche dell'abbigliamento qui abbiamo il nostro vitellino lux adatto per una calzatura da donna questo invece è il nostro articolo top seller per la stivaleria per il mondo maschile abbiamo l'ungaro questo invece è il nostro articolo studiato appositamente per il mondo dello sportivo e del tecnico il caramello qui entriamo nel mondo della pelletteria fatta su vitello con un bel marsiglia ed un lil adatto rispettivamente per una pelletteria più morbida e una più classica qui abbiamo invece il mondo dell'abbigliamento con il fashion e abbiamo deciso quest'anno di concentrarci sui look da guanteria penso possiate notare anche lo spessore che ha poi qui immagino estremamente leggero ma anche molto morbido quasi seta un guanto letteralmente un guanto di nome di fatto infatti si chiama blu perfetto e questo lo possiamo trovare in vari colori avete anche una cartella certo questo è soltanto un'esposizione della nostra collezione ma potrete trovare altri colori quelli che abbiamo preparato per il treno di stagione in chi era se ci verrete a trovare d'accordo guarda sono sono veramente incuriosita di tutto il mondo guanto sinceramente e anche di tutto questo mondo tecnico che mi che ci ha raccontato che in effetti è per un mondo di una calzatura anche particolarmente di lusso grazie chiara grazie a tutto il team di conceria la veneta che ha preparato una nuova collezione molto interessante e invito ancora tutti a visitare la fiera grazie io ringrazio te per l'opportunità orietta e spero di vedervi presto in sicurezza in fiera grazie grazie a tutti